Gossip GF 15, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo Opinionisti? Chi commenterà le gesta dei concorrenti del Grande Fratello 15? Secondo il gossip, dovrebbero far parte del cast Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Martedì 17 aprile è il giorno previsto per il debutto della quindicesima edizione del cancelletto Grande Fratello, a pochissimo tempo da quel momento, si rincorrono i cancelletto gossip sul cast che animerà le puntate del reality fino allinizio dellestate. Oltre ai tanti rumors sui concorrenti pronti ad entrare nella casa più spiata dItalia, in queste ore si sta facendo largo l'ipotesi che a commentare i comportamenti degli inquilini saranno due star dell'ultima edizione del GF Vip, stiamo parlando di Cancelletto Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Grande Fratello Vip, chi saranno i supporter di Barbara Durso?. Mancano meno di 10 giorni al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello, martedì 17 aprile, infatti, il reality con la gente comune debutterà in prima serata con lo conduzione di Barbara Durso. Se la presenza della napoletana alla guida del programma Mediaset è ormai certa da qualche settimana, restano ancora tanti dubbi sul resto del cast che animerà le poche puntate previste. TV Sorrisi e Canzoni, però, ha provato a regalare un'anteprima esclusiva su quelli che dovrebbero essere i personaggi che commenteranno il comportamento dei concorrenti nella casa, secondo i gossip che ha raccolto questo credibile settimanale, gli opinionisti del GF 15 dovrebbero essere Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. La notizia della presunta partecipazione dei due protagonisti dell'ultimo Grande Fratello Vip alla versione NIP dello stesso format, sta impazzando sul web da qualche ora ma non ha ancora trovato conferma o smentita nelle voci dei diretti interessati. Se dovessero essere davvero il cantautore e la regista e supporter della presentatrice in studio, vorrebbe dire che la produzione ha scelto di puntare su due personaggi molto amati dal pubblico che lo scorso autunno hanno fatto molto discutere con il loro atteggiamento nella casa. Al GF 15 arrivano i parenti di? L'indiscrezione. Nell'attesa di scoprire se saranno davvero Cristiano Malgioglio e Simona Izzo gli opinionisti del Grande Fratello, riportiamo altri interessanti gossip sul resto del cast del programma in partenza il 17 aprile su Canale 5. Stando alle tante notizie che appaiono sui siti e sui giornali in questi giorni, sembra essere confermata l'indiscrezione che vorrebbe un mix nella casa tra persone comuni e personaggi noti al pubblico per vari motivi. Se in un primo momento si diceva che avrebbero partecipato al GF 15 alcuni ex concorrenti, oggi pare essere più credibile l'ipotesi che a mescolarsi con gente sconosciuta siano i parenti di. Secondo quello che racconta Spai nel suo ultimo numero, per esempio, sarebbero già sei i semi VIP che avrebbero la certezza che a breve varcheranno la famosa Porta Rossa di Cinecittà. I parenti di che starebbero per entrare nella casa più spiata d'Italia, dunque, sarebbero, Michael Terlizi, figlio dell'ex naufrago Franco, l'ereditiera Camilla Lucchi, Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, Lucia Bramieri, nuora dell'indimenticato Gino, Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Morick, e Simone Coccia, compagno della senatrice Pezzopane. La cosa particolare che salta immediatamente all'occhio leggendo questa lista, è che sono tutti personaggi legati in qualche modo a Barbara D'Urso, chi in un modo e chi in un altro, infatti, hanno presenziato tutti nei programmi di Carmelita recentemente. Che sia solo una casualità.